Ci troviamo a Mondovì, alla cattedrale, dove abbiamo otto campane che adesso ascolteremo dalla cella campanaria per la solennità patronale di San Donato. Si conclude qui il concerto di campane a festa per San Donato organizzato dall'associazione Campanetto. A presto! Il campanile della cattedrale di Mondovì La chiesa dei Santi Pietro e Paolo Sant'Agostino Il Sacro Cuore E qui la Torre Civica E Carassone La chiesa dei Santi Pietro e Paolo 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.